Buongiorno a tutti, giro questo video da una fornace spettrale avvolta nella nebbia come potete vedere e sono nel prato dei fondi a fare due passi. Ecco il fatto che fornace abbia in questo momento sembianze così spettrali, tra virgolette mi perdonerete certo questo termine, non è fuori luogo per quello che sto per dirvi. Dunque ciò che voglio dirvi con questo video parlando da questa fornace questa mattina così spettrale è la risposta a una domanda che uno spettatore del canale della scuola di filosofia mi ha fatto, una domanda interessante che devo dirvi la verità mi affascina anche parecchio e cioè alcuni chiarimenti sul ruolo del criterio della semplicità nelle spiegazioni scientifiche, cioè perché è bene che una teoria scientifica per essere credibile sia semplice. Ora sappiamo fin da tempi immemori che non è bene moltiplicare in vano i principi quando si desidera spiegare un qualcosa, un oggetto, un fenomeno o quant'altro. Ecco che qua subito si potrebbe dire ah sì è il famoso rasoio di Ockham, no in realtà l'aveva già detto Aristotele molti secoli prima di Ockham, comunque il principio è lo stesso, non complicare inutilmente la spiegazione e su questo va bene ci siamo. Allora io ricordo quando ero ragazzo, adesso a 40 anni e quando avevo 20-25 anni si narrava una storia circa una casa di roccata che si trova in un comune vicino a Fornace, un comune circa 4-5 volte maggiore di Fornace in termini di popolazione. Dovete sapere che in una frazione di questo comune esiste appunto una casa di roccata da tempo lungo, non ho idea di quanto circa ma da molto tempo, disabitata. È una casa di roccata permanentemente all'ombra e che dà direttamente su una strada provinciale. Vi ricordo che dei ragazzi raccontavano una storia, devo dire la verità, molto divertente sulle motivazioni relative al perché nessuno desideri abitare quella casa, nessuno voglia acquistarla e metterla a nuovo. E si narrava di presenze malefiche, spettrali in quella casa. Ricordo dei ragazzi raccontavano che di notte si sentivano dei passi da presenze spettrali, cioè c'erano solo dei ragazzi uno o due che entravano all'interno di quella casa, vi permanevano una, due, tre ore, quattro ore e a parte loro non doveva esserci nessuno eppure dai piani superiori sentivano questi passi con queste scarpe pesanti di legno che si usavano una volta in alcuni dei nostri paesi. Ecco, e questa era la spiegazione che si dava. Allora, è una spiegazione credibile sul motivo del perché nessuno abiti quella casa? Beh, credo che ognuno di voi possa convenire di no, a meno che non si voglia cadere nel ridicolo, nessuno darebbe retta a questa storiella dei fantasmi. Divertente ma francamente non credibile. Analizziamo allora razionalmente la situazione. Qual è la spiegazione scientificamente più accettabile per il fatto che quella casa non sia abitata? Consideriamo i fatti per quanto realmente sono. Primo, è una casa permanentemente all'ombra, quindi mai batte il sole su di essa, in depressione. Secondo, è una casa diroccata e voi sapete che per rimettere a nuovo una casa occorrono parecchi soldi. Mettere a nuovo una casa, fare un investimento enorme per una casa permanentemente all'ombra. Terzo, è una casa che dà direttamente su una strada provinciale, quindi come una persona, un eventuale abitante mettesse il piede fuori dalla porta di casa sarebbe già sulla carreggiata, cioè sulla zona di transito e vi assicuro che su una strada provinciale i veicoli non vanno ai 50 all'ora. Ecco, questo significa attenersi al criterio di semplicità e prediligere la spiegazione più semplice rispetto a spiegazioni più complesse che francamente complicano inutilmente la storia anche in maniera non credibile. Ricordiamo sempre che una teoria scientifica deve essere anche una teoria credibile, deve basarsi su degli argomenti di credibilità. Questo non significa necessariamente che debba essere materialistica o materialista o attenersi a principi materialisti, ma deve essere credibile, deve avere un fondamento razionale. Nel caso della casa, scusate diroccata, è chiaro quale sia la storia, la spiegazione preferibile fra le due, quale sia la più razionale e anche la più scientifica.